E allora, 18.50 siamo al San Paolo, bel colpo d'occhio. Decisamente, veramente molto molto bello, ne parlavamo prima, io non c'entravo da almeno 10 anni e devo dirti che mi sembra di stare in un'altra città, veramente bellissimi due tabelloni. Tabelloni col sole a naso, se non sono partiti in notturno non si vede niente. Il tabelloni, probabilmente, penserà troppo bene di montare una copertura in maniera data. Non credo che sia un problema di copertura perché... Qualcosa dovremmo fare per l'antiriflessio. Diciamo che però stasera alle 21 si dovrebbe vedere. Sì, sì. E Iolini queste macchie a vari colori? Senti, allora, forse quelli a giallo e non le avrei messo. E quello era quello del Presidente? Bianchi e azzurri ci possono pressare, staccano bene, eccetera. Ma questo giallo e blu, ricordo da tanto che non, è proprio una squadra che certamente non è proprio amata. Facciamo un attimino vedere se si vede qualcosa agli amici. Andiamo un po' dozzinando. E' un'altra cosa che mi stupisce. E' un'altra cosa che mi stupisce, è un'altra cosa che mi stupisce, dove poi le delegazioni si seguono. Fanno un gel e il giro e poi si fermano e ognuna occupa uno spazio della vista d'antiriflessio. Che oggi, come oggi io ho detto. E il Vesuvio? Come lo vedi qua? Molto stilizzato, molto moderno. Iper moderno. Iper contemporaneo. Non lo so, forse probabilmente con il gioco di luci che ci sarà stasera avrà il suo percorso. Visto lo signo, ho un'unione che mi intusione. Cerchiamo di non criticare prima di cominciare. Soprattutto è uno spettacolo televisivo che allo stadio non so se renderà in pieno l'effetto. Anche perché se è proiettato in quella maniera noi già lo guardiamo in modo laterale. Comunque, una cosa divertente è che in posizione opposta dove sta. Questa è bellissima. Perché il Vesuvio è dall'altra parte della città. Sono due Vesuvio che si guardano. Forse De Laurenti non fa entrare i tuttrati della curva B. Esatto. Forse io lo voglio lasciare. Che dici? No, ma invece io vorrei parlare un attimo un po' di quello che è stata l'odissea dell'ingresso. E vogliamo parlare? Eh, te lo stavo chiedendo ora. Vogliamo cercare di essere... Stadio blindato. Stadio blindato. Stadio blindato. Accrediti incredibilmente. Diciamo che il Vesuvio doveva fare la richiesta del nuovo accredito per entrare alla città. In più ci doveva essere l'ok e stamattina bisognava ritirare quello che noi chiamavano uno sticker. Quello sia questo talloncino giallo, l'alloncino giallo che vedete qui. E perché poi, ecco, tutto ciò avrebbe, sarebbe stato il lascia passare per entrare in Zaufel. In o meglio, in termini un'astanza. Tutto ciò non è sembrano niente. Noi siamo arrivati un attimo in anticipo. Non c'era un... Siamo entrati? Siamo entrati. Non ci ha controllato niente nessuno. Siamo andati addirittura da carabinieri, alti vertici dell'esercito, eccetera, a chiedere da dove si potesse entrare. A un certo punto si era sparsa la voce che fosse stata soppressa la tribuna stampa, perché nessuno sapeva dove era l'ingresso. In effetti non è cambiato niente. Però per un pelo non siamo entrati proprio dalla tribuna VIP e tribuna autorità. Ma proprio perché non abbiamo voluto provarci. Però abbiamo, siamo passati attraverso dove stiamo preparando il banchetto per la tribuna autorità. Sì, sì, sì. Quindi speriamo che arrivi qualcosa pure in tribuna stampa. Ma dubito, dubito. Abbiamo visto tante belle leccorni, eh? Belle. Siamo qui per lavorare. Eh beh, però... È un duro lavoro. Se ci dovessero portare qualcosa... Portateci da mangiare. Non disdagnare. Adesso... Allora, però, aspetta, sottolineiamo. Mentre noi, napoletani, del sud, eccetera, italiani, abituati a queste, questa situazione di... Senti, i fotografi... A pochismo. I fotografi strani erano soprattutto fotografi che si erano avviati per... Ma io ho visto la faccia dei cinesi, dei cinesi e dei giapponesi e soprattutto degli inglesi, cioè, stravolto, dove siamo capitati. Ecco, io mi auguro che nel frattempo noi che siamo saliti, eccetera, la cosa si sia normalizzata e tutti sappiano da dove debbano andare. Soprattutto che funzionano i controlli, perché... A noi non c'è controllato nessuno. E io la borsa... Guarda, e se portavamo il casco, potevamo pure portare il casco. Grazie.